Una partita oltremodo tirata perché secondo me bravi, parlo più forte io, bravi nel terzo set a chiuderla perché sennò poteva avversi realmente un'altra partita e complimenti a Messina per la partita che ha fatto perché hanno difeso l'impossibile, più tiravamo forte più difendevano e quindi complimenti a loro, complimenti a noi per questa partita, un po' per la stagione che stanno facendo queste ragazze sapendo che stiamo giocando anche contro squadre forti che dall'altra parte hanno la stessa idea di vincere come noi Ma le squadre forti cominceranno già da domenica? Sono già iniziate da un po' Però cosa portate da questa vittoria nella più promozione? Ogni partita è a sé Ripeto, sono squadre forti perché abbiamo visto che secondo me è l'unica che in questo momento che merita di essere lassù che è Perugia è l'unica, la cosa in più che ha è che è molto cinica come squadra cosa che invece noi abbiamo ancora degli alti e bassi in certe situazioni ma non noi, noi e qualsiasi altra squadra che c'è assieme a noi l'unica è Perugia che in questo momento ha quel cosina in più e noi stiamo cercando di colmare queste lacune, mettiamola così, ogni giorno però questo è sport, quindi ci portiamo intanto la gioia di andare a fare una finale perché è sempre bello e poi la consapevolezza anche che ci siamo indipendentemente se si gioca in casa o fuori